Come dirigere un attore che non è capace di recitare o meglio come dirigere una persona che è stata ingaggiata come attore che però poi lì al momento non è capace di darvi quella prestazione che voi vorreste. Magari c'è anche un modo per far recitare le persone che non sanno recitare, ve lo dico dopo, però prima vorrei farvi una premessa importante. Nelle piccole produzioni bisognerebbe cercare di affidare dei ruoli a degli interpreti che già in qualche modo siano somiglianti al ruolo che devono interpretare. È evidente che se una persona metti è un po' rimbambita, forse il ruolo del distratto gli sta bene perché è nell'insieme che quella persona è un po' ciondolona e quindi non deve far finta di essere ciondolona oppure distratta o svagata e c'è anche un po' la faccia, l'espressione, lo sguardo da rimbambito e quindi quel ruolo magari è perfetto per lui. Così se avete per le mani una ragazza che vuol fare sempre la sexy, che è sempre tutta piena di respiri, di soffiate, che freddo, che caldo eccetera, benissimo, datele una bella parte di ragazza che fa la vamp. Poi ho detto che si può cercare di dirigere un po' meglio un attore che non è capace. Per esempio c'è una cosa che è abbastanza grave che a volte nella recitazione che è il Chuck. Sappiate che il Chuck a volte crea veramente dei problemi a una persona che non è un professionista perché se uno dice, deve dire una battuta, è tutto pronto, le luci, le cose, tutta la truppa, il microfono, le cose, allora qua pronto, silenzio, azione, uno, due, prima, seconda, azione. Quello lì in quel momento è terrorizzato per cui non essendo il suo mestiere dice la battuta in un modo molto, molto recitato e inaccettabile. E allora dice, va bene, ma come facciamo a girare senza Chuck? Beh, non è che si possa girare senza Chuck, se però uno deve dire una battuta, magari la dice la prima volta, non va bene, senza fermare le macchine, senza fermare le macchine, avvertendo anche la troupe che non devono muoversi, non devono dire niente, così dolcemente, chiaramente dice, buona, buona, aspetta un attimo, ecco, ripetila, ripetila. Quello in quel momento si sente così più sicuro di sé perché dice, vabbè, ma allora non posso. E la ripete, magari una volta, due volte, tre volte, quattro volte, alla fine fate un Chuck in coda che va bene, spiegate insomma qual è quella buona, iscrivete qual è quella buona. Questo è sicuramente un bel sistema. L'ultima cosa che ho da dirvi, molto importante, è che gli attori e quindi gli interpreti che voi scegliete, ebbè, quegli attori devono personalizzare le proprie battute, devono assolutamente rendere proprie quelle battute, cioè se uno parla in un certo modo, un po' così, insomma, un po' strascicando le parole, quello è il suo modo di parlare, non è che poi improvvisamente diventando, che ne so, il direttore di qualcosa si metta a parlare bene, questo lo può fare un attore professionista. Quindi, se proprio dovete utilizzare quell'interprete, fate in modo che la battuta sia il più vicina possibile al suo modo di parlare. Cioè, se io devo dire, che ne so, Elena, sai, non trovo più le chiavi della macchina, ecco, come facciamo adesso a ritornare a casa? Mettiamo questa sia una battuta, no? La battuta è Elena, non trovo più le chiavi della macchina, come facciamo ad andare a casa? Attenzione, ciac, pro, via, azione! Elena, non trovo più le chiavi della macchina, come facciamo adesso ad andare a casa? Dice quello. E invece poi si impegna, Elena, non trovo più le chiavi della macchina, come facciamo ad andare a casa? Elena, non trovo più le... Insomma, al di là dell'intonazione, quella battuta deve essere probabilmente una battuta dove lui, parlando e non leggendo la battuta, dice una roba tipo, Elena, non trovo più le chiavi della macchina, adesso come facciamo ad andare a casa? E quindi diventa una parlata, cioè una battuta parlata. Se quella parlata somiglia al suo modo di parlare, insomma, avete risolto un bel po' di problemi di direzione degli attori. Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio